ciao ragazzi benvenuti a un crimine al giorno 30 marzo siamo al 30 marzo del 1979 ovviamente la faccenda che ho intenzione di trattare oggi è una faccenda tra quelle più particolari ecco che io metto all'interno del dell'elenco dei crimini al giorno semplicemente perché si tratta del di un risvolto diciamo politico e storico talmente grave per quanto concerne i risultati finali nell'arco degli anni di storia che a tutti gli effetti reputo un crimine al di là poi dei crimini che sono stati perpetrati per ottenere ecco il risultato indicato il 30 marzo del 1979 30 marzo 1979 c'è un referendum in iran che sancisce la vittoria della cosiddetta rivoluzione o meglio sancisce la creazione del nuovo regime religioso che si lega alla sharia la legge religiosa islamica e che vede la nascita di una nuova dittatura relativa a comeini alla yatollah dopo una rivoluzione durata circa un anno e mezzo dopo combattimenti relativi alla possibilità di scacciare con efficacia lo shah reza palawi il diciamo il dittatore anch'esso della nazione iraniana negli anni precedenti il problema è che nel 1979 il 30 marzo questo referendum che vede un sostanzialmente un plebiscito quindi un sì alla costituzione di un nuovo stato eh che faceva riferimento alla yatollah comeini ebbe il 98 per cento dei voti dopo una serie di crimini e di combattimenti portati avanti sicuramente con una buona dose di eh buona fede assolutamente dal quelli che erano i fedaini iraniani quindi le brigate del popolo di ispirazione marxista uniti a quelle che erano invece eh le brigate islamiche eh che non seppero però i primi tenere eh sott'occhio quello che era la velocissimo il velocissimo slittamento verso un regime religioso che pensavano di poter a tutti gli effetti eh controllare il risultato fu la nascita di uno stato eh islamico con dei dettagli insomma con quei dettagli di vita sociale di vita comune che vediamo essere efficaci ancora oggi andiamo a vedere la scheda 30 marzo 1979 siamo in iran eh la giornata di referendum del 30 marzo appunto le vittime io ho segnato ovviamente la libertà di un popolo e delle donne in particolare migliaia di vittime immediate decine di migliaia di vittime negli anni a seguire eh va ricordato per esempio che durante il combattimenti per eh la eh decostruzione del regime di Reza Pallavi per esempio ci furono ehm degli eventi come il 19 agosto del 1978 430 persone persero eh la vita nell'esplosione incendio del cinema eh Rex nella città di Abadan la strage venne ricondotta ai fedelissimi di Reza Pallavi ma in realtà fu poi ehm chiarito che era stato un atto da parte dei Mujahidin vicini alla Yatollah per mettere sempre più in difficoltà la posizione politica di Reza Pallavi questo è semplicemente uno degli eventi avvenuti 430 persone così come all'indomani del nostro referendum che qua citiamo ovviamente vennero uccisi centinaia di persone se non migliaia perché il numero non è mai stato chiarito di persone che sembravano essere semplicemente vicine al vecchio regime così come avviene purtroppo spesso in ogni rivoluzione. Il problema è che la conclusione della rivoluzione contro il governo Pallavi qua vediamo il referendum cosiddetto anti-regime ne ha creato un altro e ne ha creato uno probabilmente fra i peggiori esistenti al mondo per il regime islamico eh relativi alle falange sciite e vicine alla legge religiosa, la sharia che controlla l'Iran ancora oggi largamente sebbene la rivoluzione fosse nata da un movimento di ispirazione marxista come abbiamo detto dei fedaini, volontari del popolo, alleati con i mujahidin ehm con l'incapacità insomma di controllare gli sviluppi religiosi della stessa eh rivoluzione. L'abbattimento del regime avvenne, venne creato con il silenzio o la connivenza degli amici e nemici qua io ho indicato mh che ovviamente trovano spazio sia negli Stati Uniti che in Francia che eh in Inghilterra che in Russia da una parte e dall'altra per motivazioni diverse viene creato un regime che ha le caratteristiche che vediamo ancora oggi e immediatamente all'indomani del referendum sostanzialmente ehm la nuova Costituzione prevedeva fra le altre eh ovviamente l'essere eh bandita ogni bevanda alcolica, il gioco d'azzardo e la prostituzione ma soprattutto le persecuzioni contro gli omosessuali ehm attenzione il reato di omosessualità divenne punibile con l'esecuzione capitale alla quarta eh infrazione per quanto riguarda colui che attivamente ehm era eh veniva colto insomma in atti omosessuali soprattutto la pena di morte per lo stupro e l'adulterio e per chiunque in qualche modo non eh seguisse la legge della sciaria ovviamente reimposta alle donne di coprire braccia e gambe eh con abiti non succinti e di coprire il capo con un velo coprendo ovviamente rigorosamente assolutamente i capelli e poi tutte le altre cose relative alla legge della sciaria e molte di queste condanne a morte purtroppo eh vengono ancora oggi eseguite eh tramite lapidazione quindi insomma ritengo che questo argomento eh sia assolutamente da eh inserire all'interno di quelli che possono essere definiti crimini al giorno perché la nascita di quella dittatura la nascita di una delle dittature peggiori al mondo fomentata dal fanatismo religioso è qualcosa veramente di ehm inaudito oggi è il 30 marzo ci vediamo domani come al solito con una pillola di crimine fra quelle meno conosciute o più particolari all'interno della botteguccia dei sigilli un crimine al giorno ciao 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 ciao